La sostenibilità è il futuro del pianeta. Per Estra, la sostenibilità è una leva per la crescita, che crea valore anche per i propri stakeholder. Per le 664 persone che lavorano nel gruppo, 94,6% dipendenti a tempo indeterminato, a cui è destinato il 28% pari a 24 milioni di euro del valore aggiunto aziendale. Per i nostri 730.000 clienti, a cui garantiamo servizi efficienti e di qualità. 12 minuti il tempo medio di attesa ai nostri sportelli, 13 secondi quello al call center, 8,2 su una scala da 1 a 10 il livello di soddisfazione dei clienti gas, senza dimenticarci la loro sicurezza, con il 100% della rete gas ispezionata per la ricerca delle perdite. Per i nostri soci, a cui destiniamo oltre il 10% del valore aggiunto aziendale, che complessivamente ammonta oltre 121 milioni di euro. Per i nostri oltre 2.000 fornitori, che con noi hanno un giro di affari pari a 204 milioni di euro, certo importante per mantenere o creare occupazione. Per l'ambiente, al quale abbiamo risparmiato 17.000 tonnellate di gas a serra, migliorando rispetto al 2016 del 110%. Per la collettività, a cui sono destinati 18 milioni di euro di valore aggiunto, con oltre 1.000 insegnanti, 54.000 studenti e 130.000 familiari, coinvolti nei nostri progetti educativi sul risparmio energetico.